Grazie Presidente Casellati, Presidente Draghi, Governo, colleghi senatori. A distanza di poco più di un anno dalla tempesta sanitaria ed economica che ha travolto il nostro Paese e l'intero mondo, oggi siamo ad una svolta cruciale e determinante per il presente e il futuro della nostra nazione. Nazione che non è un concetto astratto ma è un concetto che indica la somma e la sintesi di tutte le nostre vite, di tutte le nostre comunità, di tutte le nostre attività, di tutti coloro che hanno attraversato un momento storico veramente importante dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. E lo ha fatto pagando veramente in termini anche di perdite di affetti, di lavoro, di reddito e di speranze. A tutti loro che hanno resistito con pazienza e dignità abbiamo il dovere oggi di dare risposte, di indicare l'orizzonte di serenità che meritano. E proprio come accadde 40 anni fa dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla classe dirigente oggi tocca tracciare la strada per uscire da questa crisi, per uscire dal dramma della pandemia. Tracciare la strada per portare finalmente il Paese a rivedere le stelle, per citare il sommo poeta padre della nostra lingua e della coscienza nazionale nel suo settecentesimo anniversario. Un ruolo carico di grande responsabilità, quello delle istituzioni, che non sarà solo un ruolo di ripresa ma soprattutto un ruolo di rinascita, perché veramente la tragedia, 120.000 morti di Covid in Italia sono veramente tanti, quindi una vera e propria tragedia. Un ruolo che quindi dobbiamo dimostrare di meritare come rappresentanti eletti dei cittadini per dare voce alle loro istanze e tutelare i loro interessi in questo vero e proprio appuntamento con la storia. L'anno 2020, sappiamo tutti, ha stravolto la vita di ognuno di noi, la socialità di ognuno di noi. I dati economici sono drammatici e li conosciamo tutti questi dati economici. Sono dei numeri, ma dietro oggi delle attività chiuse, dei negozi chiusi, dei posti di lavori persi, ci sono le vite delle persone, le vite vere, i progetti sui quali oggi purtroppo per tanti italiani è calato il buio. Uno scenario quindi da guerra, uno scenario apocalittico, tant'è che anche il nostro linguaggio è cambiato in questo periodo particolare perché tutti quanti noi abbiamo parlato di guerra. E infatti oggi siamo qui invece a parlare proprio di dopoguerra, quindi di speranze, perché quello che approviamo oggi veramente è il più grande piano di rilancio della storia repubblicana. Tant'è che qualche settimana fa, in un precedente intervento che ho sempre fatto in quest'Aula, ho fatto un confronto tra quello che è oggi il Next Generation EU, quindi il Recovery Fund, con quello che è stato negli anni passati, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il piano Marshall, un grande piano di investimenti per far uscire dalla miseria della guerra l'Europa. E quindi è un raffronto, ecco, tutt'oggi assolutamente, anzi, importante da fare perché negli stessi numeri e nella stessa quantità economica possiamo assolutamente affermare che il Recovery Fund oggi ha una portata di investimenti maggiore anche dello stesso piano Marshall. E soprattutto il cambio di passo che c'è stato, finalmente un debito che abbiamo mutualizzato tutti quanti i Paesi europei. Quindi anche questa è stata una svolta importante. Ecco perché oggi il documento che approviamo ha una portata storica, molto ma molto importante, unica e straordinaria, che quindi può rappresentare veramente il volano, lo sviluppo, la rinascita, la ripresa per il nostro Paese se utilizzato appunto al meglio. L'opportunità oggi, anche che ci viene data, è quella delle riforme che non sono più rinviabili nel nostro Paese, le riforme che noi dobbiamo fare per le future generazioni, perché noi stiamo trasferendo oggi il debito alle future generazioni, quindi abbiamo necessità di trasferire, Presidente Draghi, il debito buono alle nostre future generazioni. Ecco perché il piano delle riforme è importante. È molto importante oggi attuarlo. Ed è per questo che in tutti questi mesi, come gruppo parlamentare di Forza Italia, abbiamo lavorato alle proposte. E oggi finalmente tante di queste proposte sono contenute in questo piano, sono contenute in queste riforme. Ed è importante il lavoro che abbiamo fatto tutti quanti insieme. Infatti, tra le proposte che sono oggi capisaldi appunto dei programmi, politici di Forza Italia, abbiamo la riforma della pubblica amministrazione. Presidente Draghi, lei ha parlato di inerzia nel suo intervento di replica e noi oggi dobbiamo sburocratizzare il Paese e lo dobbiamo fare con una riforma importante della pubblica amministrazione. La riforma della giustizia, che dovrà intervenire sull'eccessiva durata dei processi e puntare a ridurre il forte presso degli arretrati giudiziari. Ed inoltre servono degli interventi di revisione del quadro normativo e procedurale. E poi la riforma del fisco, che se anche non contenuta o meglio in questo piano, è una riforma importante. Per noi è importante oggi l'alleggerimento fiscale per famiglie e imprese. Quindi per noi quella del fisco è una battaglia che porteremo avanti in questo Parlamento. E grazie anche, Presidente Draghi, perché le nostre proposte sono state accolte. Sono state accolte quelle di proroga del superbonus 110% al 2023, che è uno strumento oggi essenziale per rilanciare l'edilizia. Grazie anche, Presidente Draghi, per la proposta sui mutui agevolati al 100% per l'acquisto della casa da parte dei giovi. Anche questa è un'opportunità che noi abbiamo proposto per aiutare la famiglia e la natalità nel nostro Paese. Per quanto riguarda altre questioni, che sono l'Imu, gli estimi catastali, vale il principio in quest'epoca in cui i soldi si danno e non si prendono. Quindi noi siamo contrari a qualsiasi aumento della pressione fiscale. Saremo i guardiani degli immobili dei nostri italiani. Non permetteremo assolutamente alcun innalzamento delle tasse sulla casa per i nostri italiani. E poi passiamo anche a quella che è stata una nostra battaglia, il capitolo mezzogiorno, che si è tanto anche parlato nel dibattito in quest'Aula. Al mezzogiorno d'Italia il piano destina 82 miliardi su 206, quindi circa oltre anche il 40% dell'intero piano. Quindi una somma anche superiore a quella che è la clausola, che noi conosciamo del 34%. Quindi una portata di piano importante, un'opportunità unica per il mezzogiorno, anche in questo caso superiori a quelle che sono state le possibilità che il mezzogiorno ha avuto con la famosa cassa del mezzogiorno e con gli investimenti, che tanto sono serviti e tanto serviranno anche questi a ridurre il gap oggi, non soltanto con il Nord, ma anche con il resto dell'Europa. Quindi per il mezzogiorno d'Italia è una proposta importante ed è soprattutto un momento finalmente per dimostrare veramente le grandi capacità e qualità del nostro Paese. Quindi una sfida, quella della ripresa economica importante, quindi la politica oggi si gioca in quest'Aula con questo piano, veramente la sfida per il futuro e si gioca anche tutta la sua credibilità. Ecco perché oggi siamo qui a portare non soltanto come diciamo le nostre proposte, ma soprattutto a rivendicare anche quello che deve essere il ruolo di centralità del Parlamento su questo piano. Per concludere, Presidente, io vorrei rifarmi anche a uno spunto che mi viene offerto da una frase che lei nel suo intervento ha detto in quest'Aula. Cioè nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione c'è anche e soprattutto il destino del Paese. Ed ecco la parola destino, il destino è una parola che sembra mettere anche paura, una paura che ci fa pensare all'oscuro, all'imprevedibile. Anzi, invece oggi noi abbiamo la necessità di prendere per mano e di indirizzare il destino del nostro Paese e lo possiamo fare assolutamente con questo piano. Lo possiamo fare indirizzando le scelte oggi, non soltanto della politica nazionale, verso la migliore realizzazione del bene comune. E per chiudere vorrei fare una citazione particolare. Vorrei appunto proprio sul destino citare quello che diceva Nice. Il nostro destino esercita la sua influenza su di noi, anche quando non ne abbiamo ancora appresa la natura. Il nostro futuro detta le le leggi del nostro oggi. Grazie Presidente.